Assessore, finalmente si va in gara d'appalto per la pista ciclopedonale al Parco Fulviale. Il penultimo progetto dei fondi piso che abbiamo ancora in itinere. Ieri abbiamo provato in consiglio un aspetto tecnico che riguardava alcuni espropi su quell'area. Dunque, entro il mese procediamo alla gara d'appalto di un progetto importante, soprattutto per la Gammarana, per la collocazione sportiva della Gammarana, dove verrà fatto un percorso pedonale che parte da Via Potitorandi e attraversa quasi tutta la Gammarana. Dunque, sono circa due chilometri di pista ciclopedonale protetto, non è quella che fu fatta qualche anno fa con solo segnaletti orizzontali, ma sono degli invitamenti fisici che permetterà di dividere sia la corsia carrabbile che la corsia ciclopedonale. L'importo è di 700 mila euro che nei prossimi mesi spenderemo sulla Gammarana. Manca l'ultimo progetto che è la riqualificazione tutta Colleparco, di 1 milione e 200 mila euro, che permetterà di riqualificare tutti i percorsi pedonali e le aree verdi di Colleparco, e l'impianto sportivo di Colleparco. Dunque, è un progetto che darà la possibilità di sistemare tutte le aree che verranno utilizzate ai cittadini sulla zona di Colleparco.